Amici telespettatori siamo a Settingiano, vi stiamo facendo vedere questo cartello perché siamo in periferia di Settingiano e questa è una struttura di proprietà della regione Calabria. Perché siamo qui, perché ci sono dei lavoratori che stanno protestando, protestano da parecchi giorni, tra l'altro hanno anche fatto un'occupazione della sede perché questo è il termine giusto, loro non si muovono di qui, ci dormono anche la notte, non vogliono andare via finché la loro situazione non è ben chiara. È una situazione che si potrà dare da un po' di tempo, a partire, lo leggo dal cartello, dalla legge 24 del 2013 che secondo queste persone, questi lavoratori, è una legge che deve essere rispettata. Facciamo un piccolo riepilogo perché lo dobbiamo fare e poi diciamo in telegamera che cosa volete, perché state alzando la voce. Partiamo dal presidio d'onore di qualche anno fa, voi eravate sviluppo Italia, poi siete passati a... Sì, poi in Vitali ha ceduto le sue società regionali e la regione Calabria, come le altre regioni, ha deciso di costituire una nuova società. In questa società sono confluiti i dipendenti e le attività. Che si chiama questa società? Calabrieti. Calabrieti, questa è la struttura di Calabrieti? Sì, questa è la sede di Settingiano, la sede legale a Montaltofugo. Lì ci sono altri vostri colleghi che stanno protestando? Sì, anche nella sede di Reggio e nella sede di Crotone e di Bibbo. Sono oltre 100 persone, 130 persone che tra le altre cose, più un dirigente, tra le altre cose non stanno ricevendo lo stipendio da ben due mensilità. Contributi non pagati da 2013. Quindi la situazione come vedete è piuttosto pesante. Scusami, linea educazione, sto parlando? William De Virgile, rappresentante della Wilka Wil. Siamo del tu, William. Senti, qui vedo i tuoi colleghi. Ci sono anche i colleghi della sede di Bibbo Valenzi. Perché? Con quella legge che cosa si era deciso? Che voi dovevate passare a Fincala? La legge del Consiglio regionale è molto chiara. La società veniva liquidata in un'ottica di spending review. Quindi si eliminavano dei costi di consiglio di amministrazione, di amministratore, eccetera. E il dipendente doveva essere trasferito a Fincala, Brescia e Pia. La legge era chiarissima. Era stata ribadita con l'ordine del giorno numero 130 del Consiglio regionale del 2013. Tutto approvato. Tutto approvato. Però il management di Fincala ha un po' messo in discussione, ha dato dei dubbi, su quella che fosse l'effettiva razio della norma. Noi lavoratori, con le nostre rappresentanze sindacali, sosteniamo ancora oggi che tutto il personale deve essere trasferito a Fincala. La legge è stata emendata. Anche perché la legge dice così? Perché a questo punto? La legge è chiara, però qualcuno l'ha messo in dubbio. Perché Fincala? Perché qualcuno l'ha messo in dubbio. La legge è stata emendata ed è stata emendata sempre a rafforzare quella che è nella nostra tesi. Tutti i 131 dipendenti devono essere trasferiti a Fincala, Brescia e Pia. Fino a qua sembra tutto semplice. Fatta la legge, spostiamo i dipendenti, Fincala riprende l'operatività completa anche per il tipo di lavoro che deve fare. Certo, ad oggi però nulla è stato fatto. Non sono stati fatti gli atti conseguenziali perché la legge venisse applicata. Non la applica il CDA di Fincala. La Giunta non ha dato mandato, forse a questo CDA, questo non lo sappiamo, a fare gli atti necessari perché ciò avvenisse. E quindi ci troviamo in questa situazione che ti abbiamo descritto. Mensilità non retribuite, un futuro molto fosco. I lavoratori occupano le varie sedi. Il presidio non c'è solo qui a Settingiano ma anche nella sede di Montalto e nella sede di Reggio Calabria. I lavoratori sono qua anche la notte, quindi 24 ore a turno siamo sempre presenti. Poi rimani qui, William. Queste sono tutte le persone che stanno protestando. Chi è che fa il presidio anche la notte? A turno tutti quanti? Sì, sì, facciamo il presidio a turni. Ci sono dei volti giovani, perché c'è gente con famiglia? Anche se siamo famiglie e figli. Siamo tutti con famiglie e figli, quindi riteniamo di difendere le nostre posizioni, le nostre professionalità ormai in campo da oltre 15 anni. Siamo stati una società che ha dei dati molto elevati in Calabria con le misure del titolo 2 e titolo 1. Siamo arrivati a questo forte, estremo comportamento perché riteniamo che siamo esasperati. Siamo esasperati perché tutti abbiamo famiglie, abbiamo mutui perché nessuno ci ha regalato le case, le banche non è che ci aspettano perché non ci pagano lo stipendio. Riteniamo che sia un comportamento inverosimile da parte della Regione Calabria e del management di Fincalabra. Quindi noi non molleremo, non molleremo la presa perché siamo più che mai convinti di quello che stiamo facendo. Fino a quando non abbiamo delle risposte certe del nostro futuro, noi non ci spostiamo da qui, per nessuna ragione al mondo. Quindi a turni ci siamo organizzati, siamo solidali tra di noi. Chi fa una notte ovviamente non la rifà il giorno dopo, ma il giorno siamo sempre qui. Non ci sposteremo da qui. Chiaramente molti, tantissimi, quasi tutti, sono monoreddito, con figli a carico, quindi non avere le mensilità è un grande problema. Figli che sono all'università, quindi con i costi che in pratica sono esorbitanti. Però William prima parlando di informamenti diceva Sì, noi dobbiamo ricevere questi stipendi, siamo disperati, esasperati, però quello che ci preoccupa è il futuro. L'età media è di poco superiore ai 40 anni, per cui siamo troppo giovani per pensare. C'è una fase di transizione, ma anche difficile da rioccupare eventualmente. Anche se ti ripeto, le professionalità ci sono, siamo lodati da tutti quanti. Che tipo di lavoro avete fatto fino ad adesso? Allora, noi diciamo, quello che abbiamo svolto fino a un paio d'anni fa, ma lo svolgiamo attualmente, è stato il lavoro autonomo e la microimpresa. Sono quelle misure destinate ai giovani disoccupati, sotto forma sia di vita individuale che di società di persone, per cui abbiamo creato tantissime occupazioni, credimi, in Calabria. Anche possibilità di finanziamento. Certo, finanziamento a fondo perduto. Ti dico, questo è un dato però di un paio d'anni fa, erano stati creati circa 12.000 posti di lavoro. Addirittura, grazie al vostro lavoro e grazie ai soldi comunque della regione. La 215, attualmente da due anni circa siamo, visto che la nostra capogruppo è Fincalabria, molti di noi vengono occupati nelle misure che sono quelle di Fincalabria, quindi il microcredito, i giovani imprenditori, SMOC e tante altre misure. Per cui le professionalità ci sono, vanno utilizzate. Vanno utilizzate, però qui, attenzione, qui bisogna alzare di più la voce perché c'è un motivo in più. Qui non stiamo parlando con un'azienda, 130 dipendenti, di un'azienda, un imprenditore in crisi perché non va il settore, perché non funziona, perché non riesce a vendere, perché non riesce a esportare, perché non prende i soldi dallo Stato e deve pagarsi i debiti e vedi certo. Per chiudere il discorso, qui deve pensarci esclusivamente la politica, qui deve entrare in campo esclusivamente, solo la politica. Preme precisarti una cosa, allora l'azienda è in liquidazione perché è stata decisa da una legge nell'ottica della spending review nazionale, quindi la società verrà liquidata perché è stato deciso per legge. Il personale va salvaguardato, questo dice la legge e questo è stato fatto in tutte le regioni italiane, non vedo perché la Calabria deve essere sempre l'ultima a prendere scelte di buona politica. La scelta finale, la scelta definitiva, l'appello finale a chi è indirizzato? È chiaro che c'è il Presidente della Regione. Il Presidente Scopelliti, abbiamo già chiesto un incontro svariate volte, spero che ora ci riceva personalmente, si è dimostrato molto coraggioso a fare tante scelte, è sempre stato a favore dell'occupazione, ha sempre detto che non vuole perdere un posto di occupazione, un posto di lavoro, quindi siamo fiduciosi che anche per Calabria e T sia la stessa cosa. Va bene, allora aspettiamo qualche giorno, vediamo se i lavoratori hanno delle risposte, altrimenti ci rivediamo qui lunedì, va bene? Lunedì per capire che cosa è successo, ci aggiorniamo se dobbiamo alzare il tiro anche noi per quanto riguarda il servizio. Va bene, grazie e bocca a lui. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a te, grazie a tutti.